Il 28 gennaio è stata la giornata della mobilitazione contro la crisi promossa da Rete Imprese Italia, Confcommercio, Casa Artigiani, Confartigenato, CNA e Confesercenti. I dati sono davvero allarmanti, la crisi uccide l'economia e nel nostro paese chiude circa un'impresa al giorno. Drammatica ovviamente la situazione anche in Calabria, territorio economicamente fragile già di suo, già ben prima della crisi mondiale scoppiata ufficialmente nel 2009. La Confcommercio di Catanzaro ha aderito alla mobilitazione organizzando nella propria sala conferenze un convegno sulla crisi al quale hanno partecipato le autorità politiche. Il presidente di Confcommercio Catanzaro Pietro Tassone ha snocciolato numeri molto preoccupanti. La crisi, ha detto Tassone, sta condizionando pesantemente e negativamente il tessuto economico della città e della provincia. Sono 224 le attività chiuse in soli nove mesi. Una mortalità altissima che fa poco sperare. È importante iniziare comunque a far nostri questi dati, a cominciare a proporre soluzioni ad uno stato di crisi che non accenna affatto a regredire. In Italia, nei primi nove mesi del 2012, 100.000 imprese artigiane e dei servizi hanno dovuto gettare la spugna. Il reddito pro capite delle famiglie italiane è tornato ai livelli di oltre un ventennio fa e nel 2013 la pressione fiscale crescerà ulteriormente. La classe politica non riesce a trovare una via d'uscita. La pressione fiscale mina famiglie ed imprese. Il disagio è sempre più palese, ha concluso Tassone, non c'è certo da stare allegri. Fisco, lavoro, credito, burocrazia e sicurezza. Concetti che non si traducono più ormai in quello di imprese e di conseguenza in quello di economia. Imprenditori abbandonati a se stessi, isolati e stanchi. Una politica che non si assume completamente le proprie responsabilità. Un momento critico sia dal punto di vista politico che etico. Le regole della concorrenza che saltano, il tasso di evasione che sale, l'aumento esponenziale del lavoro nero, pochissimi percorsi virtuosi, una legalità invocata solamente sulla carta. Un lento processo di decadenza, quindi, come si fa a venirne fuori senza un piano reale di riprese che stia vicino e che parli direttamente ad imprese ed imprenditori? E' la domanda che si sono posti i presenti, tra cui, oltre a Tassone, Attilio Benincasa di Compartigianato, Francesco Viabiana, presidente di Confesercenti e Antonello Mauri delle CNA. E' intervenuto in diretta streaming da Roma il presidente nazionale di Confcommercio e dirette imprese per l'Italia, Carlo Sangalli, il quale ha affermato Fa di certo ben sperare questa giornata in cui tutti noi alziamo la voce, centinaia e migliaia di imprese chiedono una svolta decisa nella politica economica italiana. Le piccole e medie imprese rappresentano ancora il futuro di questo paese, chiude un'impresa al minuto e non possiamo continuare a rimanere impassibili. Dati poco confortanti, certo, la più dura recessione del dopoguerra, ma dobbiamo lottare, confrontarci e convincerci che vogliamo credere davvero un futuro per noi e per le nostre imprese. Grazie per la visione!